Qualche migliaio d'anni fa qualcuno si è inventato di fare il formaggio. Uno dei sistemi primitivi, primordiali per fare il cacio era la coagulazione vegetale, ovvero si usavano delle sostanze che si trovavano in natura. Una di queste è il latte di fico, l'altra è per esempio il cardo, c'è una sostanza all'interno del cardo che permette di cagliare il formaggio. Oggi in questo secolo qualcuno si è inventato di rifare il caglio vegetale per creare un nuovo tipo di formaggio. Stiamo parlando dell'asiago DOP a caglio vegetale. Siamo riusciti a mettere le mani su una forma di addirittura 5 anni perché di solito il formaggio a caglio vegetale si mangia fresco. Noi invece ne abbiamo trovato una di stagionata ed è davvero incredibile, ve la faccio vedere. Eccola qua, vedete tutto l'aspetto di un asiago decisamente stagionato, si sono formati tutti i suoi cristalli come dovrebbe essere con il calcio all'interno del nostro formaggio e la cosa principale però è quella del gusto perché alla fine è una scelta di campo, è una scelta per andare incontro a chi vuole mangiare il formaggio magari stando attento anche un po' al versante etico della faccenda visto che qualcuno può dire io non voglio che il caglio che c'è nel mio formaggio venga da un animale macellato, voglio che ci sia un caglio vegetale. Ebbene adesso c'è la possibilità e il gusto è davvero incredibile perché ha tutta la potenza di un formaggio stagionato e ripeto guardate il colore guardate questo pezzo è veramente bellissimo. Il profumo è quello buono, giusto del formaggio asiago stagionato, cinque anni sono veramente tantissimi e il gusto di questo formaggio è incredibile perché porta in dotte tutto quello che è l'asiago ovvero si è perso il latte fresco, il burro fresco, abbiamo il latte ormai cotto, il burro cotto ma anche quello che si chiama umami ovvero quel gusto che ti fa venire voglia di metterlo in bocca un altro pezzo, c'è una forte sapidità e alla fine lascia una bella piccantezza in bocca quindi il consiglio è questo, se volete provare un formaggio nuovo, un formaggio diverso provate questo formaggio a caglio vegetale asiago dop fatto sull'altopiano, veramente incredibile. Ciao!